Siamo qua da l'una e mezza stanotte. Da dove venite? Da Castellammare di Sabe, loro a Napoli. È un'esperienza di descrivere. Ma infatti è difficile da descrivere. Da patrimonio musicale rappresentare i mani schieno, lo dimostra il fatto che siamo qua. Per me loro sono una forte di ispirazione perché sono partiti che cantavano per strada fino a arrivare praticamente in tutto il mondo. Le 11 circa, li seguo dalla nascita, quindi ho un legame abbastanza forte. Dalle 12 o 11, 11 e mezza dai. Da Catania, Sicilia. È emozionante da un lato perché comunque si aspettava da tanto, visto che noi questi biglietti li abbiamo fatti tre anni fa, quindi finalmente... Una soddisfazione perché è anche da due anni che aspetto questo concerto, che hanno rimandato, quindi una grande soddisfazione di vederli. Da quanto tempo sei qui? Da più o meno tre ore. Il sogno di una vita. L'ho coronata finalmente e sono qui. Oggi, tra l'altro, facciamo quattro anni, mi ha regalato questo biglietto, sono contentissima. La scoperta due ore fa che è qui. Esatto, è una sorpresa, non lo so descrivere. Da quanto tempo state qui? Dalle 6 di ieri pomeriggio. Da un sacco di tempo che non si vedeva in Italia, un rock così energico. Sì, penso la stessissima cosa. Coraline racconta una storia particolare, io mi sento veramente rispecchiata. 20 anni, perché comunque si parla appunto dei 20 anni, come si vivono i 20 anni questi periodi, insomma. Racchiude molto, molto, molto la vita dei ragazzi di oggi. Grazie. 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 Grazie.